L'addizione possiede alcune proprietà che possono aiutare a eseguire i calcoli. Consideriamo questa addizione e scambiamo gli addendi. Il risultato è lo stesso. Questo succede per qualsiasi addizione. Se si cambia l'ordine degli addendi, la somma non cambia, è la proprietà commutativa. Consideriamo ora un'addizione con più di due addendi. Come possiamo calcolare la somma? Sommiamo i primi due addendi. Poi aggiungiamo al risultato il terzo addendo. Ora facciamo lo stesso, ma partendo dal secondo e terzo addendo. Abbiamo ottenuto la stessa somma. In un'addizione si possono sostituire due o più addendi qualsiasi con la loro somma. È la proprietà associativa. Spesso è utile sfruttare entrambe queste proprietà per eseguire addizioni più facilmente. In questo caso, applichiamo al contrario la proprietà associativa. Sostituiamo un addendo con una somma di due numeri. Tu come avresti eseguito questa addizione?